Buonasera a tutti amici di Ciao Como, si è appena concluso il match Cantu-Torino 72 a 68. Mario, che partita? Partita equilibrata, è stata in discussione fino all'ultimo minuto. Sì, è stata davvero dura, ma alla fine Cantu ha vinto. Tanti complimenti anche a Torino, che comunque è stata un'ottima prestazione. Ha messo tanta grinta e ha mostrato in campo un grandissimo giocatore. Sì, abbiamo visto Taylor, l'americano, con ben 29 punti e 26 di valutazione, quindi top scorer del match. Ma anche Cantu ha due giocatori in doppia cifra, sono l'americano McGee con 19 punti e Riccardo Moreschini con 10 punti. Adesso Cantu vede il primo posto, ci sono due trasferte, mercoledì a Verona e domenica a Livorno. Direi che è tutto, Gloria. Sì, Mario. Quindi da Gloria Moscatelli. E Mario Camagni. Buona settimana a tutti.